oh eccoci qui finalmente il tempo di registrare un nuovo video è un po che non ci vedevamo vero lo so cosa faremo oggi oggi faremo un unboxing di una novità una cosa high tech sicuramente avete letto dal titolo e dalla descrizione vediamo un po cosa ci hanno spedito bella confezione non avevo mai ricevuto la confezione in questo modo sarà felice mia figlia che ci giocherà sicuramente un redmi 7 xiaomi perfetto allora ebbene sì mi è arrivato questo telefono che penso sia uno degli ultimi prodotti della xiaomi non è il top di gamma è un telefono che costa 145 euro circa e l'ho acquistato su banggood e l'ho preso per per una conoscente per una mia amica gli ho detto guarda facciamolo arrivare a casa mia così ci faccio un bel unboxing e mi faccio un bel video e così così abbiamo fatto vediamo cosa c'è all'interno della confezione cambiamo inquadratura xiaomi redmi 7 questa è la versione da 3 gigabyte di ram e 64 gigabyte di rom colore eclipse black versione global quindi assolutamente compatibile con gli standard degli operatori italiani 6,26 pollici di display quindi uno schermo bello grande noccia a goccia qual tecnologia qualcomm per il quick charge in questo caso abbiamo lo snapdragon 632 14 nanometri di tecnologia produttiva fino a 1,8 GHz 8 core batteria da 4000 mAh solitamente è una lipo all'interno di questi cellulari doppia fotocamera da 12 megapixel più fotocamera per i selfie da 2 megapixel ora la parte più difficile è far uscire il sottovuoto che c'è la scatola confezione abbastanza standard qui abbiamo una piccola quick start guida dove spiego un attimo le componenti del telefono la solita cover in tpu trasparente nera e qui abbiamo il telefono che vedremo successivamente all'interno abbiamo carica batterie con già l'attacco europeo quindi ottima cosa non c'è bisogno di nessun adattatore cavo usb micro usb classico e poi non c'è altro ma se no non ci sia altro quindi non danno in dotazione cuffiette a altri dispositivi una cosa che mi sembra strano che non ci sia la spinetta per togliere per togliere la eccola qui la spinetta per aprire il carrello dell'essima qui ecco poi tutto il contenuto facciamo la prima accensione del telefono sembra ci sia vetro davanti e dietro allora scegliamo la lingua italiana scegliamo la tua regione direi sempre Italia bene fare l'ho qua testiamo di mondo tutto dopo tutte le solite cose di Google mi studente stiamo Android schermata da blocco ci si pensierà dopo ci si penseremo tutto dopo scegliamo l'interfaccia un certo so com it sì iscriviti abbiamo parlare sul in frattempo che lui ci pensa facciamo un attimo una panoramica allora in basso abbiamo porta micro usb con tecnologia group quick charge per ricaricare velocemente la batteria da 4000mAh sembra che ci siano due casse bio diffusori acustici quindi sentiremo il suono in stereo poi sul lato destro del telefono abbiamo tasto volume up e volume down e tasto di accensione sull'alto abbiamo il microfono per la soppressione dei rumori esterni jack da 3,5 per auricolari e cuffiette e porta infrarossi per poter utilizzare il telefono come un telecomando sull'altro lato invece abbiamo solamente la slitta che come potete vedere può ospitare una micro sd e due nano sim quindi possiamo utilizzare due operatori differenti sulla stessa sullo stesso telefono il telefono sembra bello compatto sul retro abbiamo le due fotocamere il flash e il lettore di impronte digitali che può essere utilizzato anche come tasto per scattare i selfie per scattare le foto o per poter accedere ad alcune applicazioni tramite il riconoscimento proprio dell'impronta digitale nel frattempo il telefono è partito naturalmente come tutte come tutti i telefoni nuovi come tutti i telefoni nuovi ha un praticamente zero latenza all'inizio e niente sembra perfetto quella persona che riceverà il telefono se lo personalizzerà come vuole parlando di ergonomia del telefono direi che nonostante abbia uno schermo bello grosso si tiene in mano molto bene sicuramente essendo molto sviluppato in altezza piuttosto che larghezza non è facile arrivare con il pollice alle parti alte dallo schermo ovvero se io non potrei mai fare uno swipe per tirare giù la tendina con una sola mano quindi avrò bisogno di utilizzare un'altra mano di cambiare il tipo di impugnatura però per il resto secondo me è un telefono come tutti gli xiaomi che ho avuto è un telefono molto valido facendo un confronto con il mio ormai vecchio redmi 5 è praticamente è anche più piccolo nonostante ci sia uno schermo più grande infatti come potete vedere questo qui il 7 sta nel mio note 5 tutto perché perché il mio ha una cornice abbastanza importante mentre questo qui ha praticamente senza bordi senza cornici se non fosse per il nocce per tutte le specifiche tecniche potete andare su uno dei miliardi di siti di settore io non sono qui a fare una recensione per fare la schedina di questo telefono ma solo per darvi le mie impressioni e per farvi vedere un unboxing assolutamente personale penso che xiaomi sia un'ottima marca o diverse periferiche sia telefoni che altre cose di questa di questa marca vi devo garantire che io non ho mai avuto problemi anzi sono sempre dimostrate all'altezza del dei dati dichiarati dal costruttore magari a differenza di altro di altri prodotti cinesi che hanno dei dei difetti non non trascurabili di sicuro un telefono con queste caratteristiche con queste prestazioni appena acquistato di una marca delle più blasonate tipo samsung tipo sony tipo lg costerebbe decisamente decisamente di più xiaomi ci permette di avere tecnologia recente perché qui parliamo di un telefono che è stato presentato sul mercato non più di 4 5 mesi fa e commercializzato forse un paio di mesi fa ad un prezzo assolutamente alla portata di tutti come vi ho detto io l'ho pagato 144 euro compresa la spedizione senza dogana senza nessun tipo di problema e il prodotto mi è arrivato nel giro di 15 giorni vi lascerò come al solito in descrizione il link di dove ho acquistato questo telefono e vi lascerò anche un link della scheda tecnica così se volete vedere tutte le componenti e tutte le prestazioni del telefono potete potete andare su uno di questi siti specializzati spero che il mio unboxing vi sia piaciuto nel caso mettete un like fate qualsiasi tipo di domanda io rispondo a tutti i commenti e fatemi sapere se avete deciso di acquistare questo telefono o se avete deciso per una soluzione alternativa continuate a rimanere sintonizzati se volete iscrivetevi al canale attivate la campanella così venite avvisati quando ci saranno dei nuovi contenuti sul canale io vi ringrazio e come al solito vi auguro una buona giornata